Si chiama Days Bruceri ed è una bella modella di 44 ore di vita a origini brasiliani ha un profilo che mi stiamo con un sacco di followers e pensate che la donna è una donna che è artefice barra protagonista di bodi positivi e la ragazza o meglio la donna ha un lato B davvero eccitante grande estasiante e esplosivo tutti infatti i uomini, i ragazzi, i maschi che sono infatti quando passa per la strada la nota una guarda e anche quando si allena viene per l'appunto ad essere notata tutti mi fissano il lato B insomma la donna non riesce a vivere seriamente si accetta per come però ovviamente non passa di certo inosservata quando vengo al palestra mi fissano tutto il lato B e io ovviamente rimango colpita sta di fatto che comunque non se la tira però è diventata diciamo oggi dal punto di vista estetico un esempio di bellezza esotica barra incredibile che si parese in maniera completa barra di parola complimenti dunque a lei il video termina qua c'ho ad un caro video grazie